In un momento di crisi generale sono gli investitori stranieri a credere di più nel talento Made in Italy. Red Italia Art è invece in controtendenza e crea un punto di rottura scommettendo sulla promozione dell'arte italiana nel mondo con un team composto da giovani imprenditori campani. Perché la rinascita parte da qui, dal talento Made in Italy e Made in Campania che crea un connubio vincente con Milano, capitale della moda e crocevia culturale e artistico. È su questi presupposti che ha inaugurato a Milano Red Italia Art, una nuova galleria dedicata proprio alla scoperta di nuovi talenti senza tralasciare i colossi contemporanei. A battezzare la galleria è stato Vittorio Sgarbi. Il gruppo di collaboratori Tutti Campani, presieduto dal mecenate Marco Giordano, forti di un'esperienza decennale nel settore, con un monitoraggio costante del mercato economico-finanziario, affiancherà collezionisti ed appassionati in ogni fase delle loro scelte. Noi abbiamo portato l'arte italiana attraverso collezionisti italiani che hanno aderito all'acquisizione di queste opere istituzionali. Parliamo di editoria di lusso, opere pittoriche e sculture.